Viviamo nei noiose soborghi di Seattle. Ma c'è niente di male nell'aggiungere un po' di colore. Occhi rossi, pelle bianca. Il giorno della scoperta si avvicina. Sono tanti. E se ti graffiano... Sì, sì. Sono guai. Sta con gli umani. Di chi stiamo parlando? Usate il cervello. Uno zombie ben nutrito è uno zombie felice. Se non ve l'hanno mangiato. Wow, ottimismo. Gli zombie si moltiplicano. Nella quarta stagione di... Ai zombie. Da mercoledì 18 luglio alle 21.15 in anteprima su Premium Action.